Un cordiale buongiorno da Andrea Biagioni di Florence Multimedia e ecco gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo ancora dalla FIPILI dove a causa di lavori si registra un chilometro di coda tra Ginestra Fiorentina e Lastra Signa in direzione Firenze e possibili disagi anche in direzione Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata tra Impruneta Greve in Chianti e San Casciano in direzione Siena. Sulla regionale Due Cassia fino al termine dei lavori attualmente in corso rimarrà chiuso il tratto tra Poggio Estriano e Castiglione d'Orcia in entrambe le direzioni. A Firenze a causa di un intervento urgente di Publieacqua con conseguente restringimento di carreggiata a disagio alla circolazione in via fra Domenico Bonvicini tra via Masaccio e via Giordano. E per il momento è tutto, muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!